Musica Primo maggio al Parco Gaslini, una grande festa per Catanzaro, piena di divertimento e con una bellissima iniziativa di questi giovani ragazzi. Allora, buongiorno prima di tutto, non siamo proprio noi ma l'associazione culturale Coccinella, in collaborazione appunto con Casa Gaslini, che organizza questo evento all'1 maggio fatto di musica e di sport. Quali saranno gli ospiti di questa giornata all'insegna del divertimento? Allora, per quanto riguarda la parte musicale abbiamo a parte varie sound di Catanzaro, cioè Catanzai, Midi e Soldier. In più avremo come ospite finale Brusco, che è un ospite reg della vecchia scuola italiana e ci sarà appunto il concertone finale come tradiziona all'1 maggio. La festa partirà dalla mattina con tanto sport e tanto divertimento? Sì, sì, ci saranno varie attività sportive di ogni tipo, partire dal pugilato con un torneo di calcio, torneo di pallavolo, e moltissima animazione per bambini la mattina, addirittura con una caccia al tesoro molto particolare. Tra gli ospiti anche CrossFit Catanzaro? Sì, 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 ci saranno molte palestre di CrossFit, cioè CrossFit Catanzaro, in più alle 4 e mezza avremo anche un altro corpo di ballo latino, che è il corpo bagnato. Allora, partiamo quindi con un evento in mattinata dedicato alle famiglie, poi nel pomeriggio arriveranno i giovani a fare festa? Esattamente, esattamente. La speranza è che comunque tutti i pubblici, tutti i tipi di clienti rimangano per tutto il tempo, perché il momento dell'1 maggio adesso è di aggregazione, sia tra famiglie, che insieme agli adolescenti, che universitari, che a signori un pochino più grandi. Quindi è importantissimo che in ogni zona oraria del parco ci siano tutti i tipi di pubblico possibili. Ci saranno anche delle zone dedicate al food? Sì, sì, sì. Avremo, vabbè, allora, a parte abbiamo quest'anno la possibilità di mettere un menù al ristorante, ci hanno due tipi di menù, uno di carne e uno di pesce, speciali proprio per l'1 maggio. In più avremo sia panini, il classico panino con la salsiccia da 1 maggio, oltretutto accompagnato per i maggiorenni da una buona birra o per i minorenni da analcolici. Insomma, un'iniziativa che è la prima volta che viene fatta qui a Catanzaro? No, no, no. È già il secondo anno che viene fatta qua al Parco Gaslini. Speriamo quest'anno appunto di aumentare i numeri già alti e l'anno scorso. Tantissimi gli sponsor. Sì, per gli sponsor passo la parola. Volevo ringraziare gli sponsor, appunto, Calabria 7, Semeraro, Centro Bellezza, Sento e Studi Immagini. Insomma, sarà un primo maggio all'insegna del divertimento dedicato alle famiglie, ma anche ai giovani che potranno vedere come concertone finale, come da tradizione, brusco qui a Catanzaro.